Sto provando in questi giorni tantissimi prodotti davvero meravigliosi e ne sto aggiungendo uno alla lista, si chiama OnePlus 5. Allora, se ne è parlato tantissimo di OnePlus 5 e molti di voi hanno mostrato grossa delusione per il fatto che il prezzo sia salito ancora verso l'alto, in Europa 499 euro per il modello da 64 giga, 559 per il modello da 128. Però teniamo conto dei progressi che sono stati fatti negli anni da OnePlus e poi soprattutto che questa è una strada inevitabile. Molti dei produttori cinesi hanno scelto questa cosa, entrare sul mercato a prezzo molto basso, usare una leva finanziaria, cioè perdere dei soldi per posizionarsi sul mercato per poi andare invece ad un livello di sostentamento che permette il sostentamento. È quello che è successo in questi anni a OnePlus. Ma com'è questo prodotto visto da vicino? Io vorrei portarvi in un posto piuttosto, diciamo, gradevole da guardare, dove ci sono tutti i grandi prodotti in circolazione quest'anno. Vediamo da questo punto di vista, in questo punto scusate, il Galaxy S8, questo è il OnePlus 5, questo è l'HTC U11 e questo invece è l'iPhone 7 Plus. Manca forse all'elenco dei migliori sia Huawei che G6 che potrebbero stare qui in mezzo alla grande e anche il Sony XZ Premium. Ma perché vi faccio vedere questo? Perché vi volevo far vedere una comparazione delle forme. Allora, 5,5 pollici in versione 16,9 di OnePlus 5 è più grande del 5,8 di Samsung. Però guardate che dal punto di vista proprio della leggibilità sul display, comunque 16,9 da 5,5 pollici fanno la loro bella differenza perché comunque la superficie su cui leggere è più grande. Invece guardate come sono praticamente identici questi due telefoni, cioè HTC U11 e OnePlus 5. E quando li si gira, adesso vedrete tutti i riflessi del mondo sull'HTC, poi soprattutto tutte le ditate del mondo, è quando li si gira che c'è una bella differenza. Sono entrambi da 5,5 pollici. Vediamo come si comportano quando li si mette uno sopra l'altro. Vedete che sovrapposti OnePlus 5 e HTC U11 sono praticamente due prodotti identici. Se giro questi due prodotti per vedere lo spessore, vedete anche lo spessore è molto simile. Forse, se non ricordo bene il dettaglio tecnico, ma leggermente inferiore al centro l'HTC. Ecco, l'altro dettaglio che vi voglio far vedere è la comparazione tra OnePlus 5 e iPhone 7 Plus. In effetti i richiami estetici sono tantissimi, la posizione delle antenne che in effetti è identica, la composizione della fotocamera, la posizione del flash. Ci sono tantissimi elementi effettivamente che sono, diciamo, che accomunano questi due prodotti. Ma io vorrei farvi vedere però che con 5,5 pollici per entrambi c'è una ottimizzazione leggermente migliore per OnePlus 5, che è un po' più stretto e anche un po' più corto. E anche dal punto di vista dello spessore offre solo la percezione, però, è di uno spessore più basso perché, secondo me, OnePlus ha fatto una cosa molto furba. Cioè, stondare gli angoli, come aveva fatto anche l'anno scorso Samsung, ha questi angoli stondati che quindi ti danno la percezione di un prodotto molto sottile. Ma com'è poi nel funzionamento di tutti i giorni? Cioè, nel senso, nel funzionamento normale questo OnePlus 5? Guardiamolo un attimo da vicino. Il display ha un'ottima leggibilità, 5,5 pollici, una versione Full HD. Questa è l'interfaccia, non ho cambiato niente, quindi l'interfaccia ufficiale di OnePlus, vedete, con essenzialmente la solita finestra con lo swipe laterale che vi fa accedere ad alcune informazioni, i contatti recenti nel caso ce ne siano e poi la possibilità di prendere appunti. L'aspetto è come sempre quello di un telefono stock, velocissimo nel suo funzionamento. Vedete, potete utilizzare, ad esempio, il cursore, quello della suoneria, e potete decidere, insomma, come spostare in quali modalità con l'utilizzo del cursore. Tornando alle impostazioni, vedete che avete la possibilità anche di gestire, ad esempio, lo scambio dei tasti, tasti che sono fisicamente nella parte inferiore, che si illuminano solo per un periodo brevissimo. Vedete, potete mettere i tasti anche sulla sparra. Io, invece, essenzialmente prediligo non usare, scusate, i tasti a schermo. E poi potete scegliere anche, vedete, che cosa fare con il tasto home. Quindi, essenzialmente, decidere che cosa attivare con il doppio tocco del tasto home. E la stessa cosa anche con una personalizzazione del tasto recenti e anche una personalizzazione del tasto indietro. Questo, essenzialmente, diciamo, sostituisce delle possibili gestures in modo molto semplice. La barra di stato, vedete, potete personalizzare il tipo di batteria, ovvero quello che vedete qua sopra, cioè la batteria a cerchio, che piaceva tantissimo, ad esempio, un po' di anni fa, quando c'erano le personalizzazioni dei telefoni Samsung. Vedete la visualizzazione della personalizzazione della batteria e anche della velocità di rete. Io tolgo la velocità di rete, vedete, qui potete scegliere quali icone appaiono e quali no. Tolgo la velocità di rete perché altrimenti mi viene un travaso di bile. Mi dà un fastidio pazzesco vedere quante lente sono le nostre reti. Allora, vedete, altra cosa fondamentale, l'attivazione, ad esempio, con i due tocchi dello schermo, il capo rivolgimento per disattivare l'audio, lo screenshot per le tre dita, e poi potete scegliere che cosa attivare disegnando sul display, no? Quindi potete fare esattamente la vostra scelta preferita. Avete la possibilità di scegliere tra diverse lettere O, V, S, M e V. Ognuna di queste può essere abbinata ad una funzionalità del telefono, no? Molto comoda, ad esempio, lo so, con la lettera O. Non so che cosa mi viene in mente con la lettera O. A me per qualche motivo viene in mente l'obiettivo della fotocamera, quindi, insomma, tracciando una O sul display, lo vediamo al telefono spento, vedete, appare la fotocamera. Quindi una funzionalità del telefono, secondo me, più che buona, una buona personalizzazione, diciamo, di un Android che in realtà è pressoché stock. Velocità. Allora, la velocità è veramente elevata. Guardate, vi faccio vedere, ad esempio, come gestisce una pagina. Adesso non guardate, c'è la velocità di rete, invece di navigazione potrebbe non essere altissima. Adesso vi faccio vedere quando la pagina è composta del tutto. Manca ancora un attimo. Adesso ci raccontiamo una barzelletta, mentre aspettiamo quel momento. A proposito di velocità di rete, no? Vedete, comunque, lo scorrimento è assolutamente perfetto. Oddio, bisognerebbe forse prendere un videoclip e, insomma, editare un videoclip per avere un'idea precisa di quanto il processore può essere potente, quanto veloce è il telefono nel fare certe cose. Però, insomma, limitiamoci a queste funzionalità base. Vi faccio sentire anche l'audio. Vedete, questo è l'audio che arriva nella parte inferiore del telefono. Una buona definizione, tra l'altro, dell'audio, ma, diciamo, bassi praticamente assenti. Ma, d'altra parte, con uno spessore di questo genere così limitato, sarebbe difficile riuscire a ottenere un risultato diverso. Non c'è essenzialmente cassa di risonanza. Ecco, non vi ho sottolineato il fatto che questo è un sensore di impronta digitale, che sulla parte inferiore c'è il connettore USB Type-C. E poi, avete visto forse lo scherzo che è stato fatto in fase di presentazione, quando era stato tolto il connettore delle cuffie da 3,5 mm, invece che viene mantenuto, nonostante, diciamo, lo spessore molto, molto, molto ridotto. Se giro il telefono nella parte superiore non c'è praticamente nulla da segnalare. Su questo lato abbiamo visto lo slider, insomma, l'interruttore per accendere e spegnere le suonerie, il volume rock, quindi il controllo del volume. Da questa parte, invece, l'accensione del telefono e poi l'inserimento delle due nano SIM. Dettaglio, importante, la fotocamera. Allora, io in questi giorni sto facendo delle prove comparate, poi le troverete sul sito di Mr. Gadget, perché la fotocamera ha fatto un po' storcere naso a molti, perché è vero, è doppia fotocamera, ma è stato tolto lo stabilizzatore ottico delle immagini. Il risultato delle immagini è comunque, secondo me, buono, ma vi dico che trovo che dal punto di vista della qualità delle immagini il Galaxy S8 sia leggermente meglio e che forse il prodotto migliore in assoluto sia HTC U11. Sono d'accordo con The ExoMark che ha dato una valutazione altissima ad HTC U11 perché veramente il risultato è grandissimo. La fotocamera in realtà è molto semplice. Vedete le diverse modalità di utilizzo che potete trovare sul telefono. Man mano avviate le modalità, poi avete alcune possibilità di controllo. Lo vedete qua sotto, ad esempio, ISO, bilanciamento del bianco, la velocità di scatto, il fuoco. Man mano poi aprite voi le diverse opzioni della fotocamera, cambiano i comandi contestuali. e quindi di volta in volta potete scegliere come scattare la vostra fotografia. Avete timelapse, avete slow motion, avete la modalità panoramica e queste invece che sono le, tac, eccolo qua, ad esempio che c'erano i dati di posizione che io non voglio. Vi dico, interessante secondo me il fatto comunque che OnePlus abbia una fotocamera tutto sommato semplice da utilizzare. Con la combinazione, lo sappiamo, dei due sensori, uno è un teleobiettivo, uno invece fa una ripresa con una dimensione normale e devo dire che il livello è più che buono. Ottima anche la fotocamera anteriore che fa degli scatti per i selfie molto interessanti. Vi mostro fotocamera anteriore, vedete anche in questo caso, menu facilissimo, avete semplicemente la possibilità di ritoccare, vedete la dimensione, avete il fatto di inserire l'HDR o meno anche nella parte frontale, di sorridere eventualmente se volete, poi vedete in questo caso il menu bellezza, questo invece è il menu bellezza, vedete, guardate come mi spalma, essenzialmente per togliere le rughe e gli effetti della pelle. Dettagli, ecco, la batteria non riesco ancora a valutarla, un po' presto per darvi un'idea di come sia la batteria, però tutto sommato vedo che questo Snapdragon 835 nei vari telefoni in cui l'ho provato è veramente parco nei consumi. Io direi che nei prossimi giorni magari ci ritroviamo, approfondiamo alcuni aspetti di utilizzo di questo OnePlus 5, ma è un telefono che da un lato è semplicissimo, perché è quasi stock Android, dall'altro estremamente potente. Probabilmente, insomma, darà del filo da torcere soprattutto agli utenti che amano il mondo stock, quindi gli utenti che hanno sempre amato Pixel, Nexus e che magari vogliono qualcosa di molto molto forte, ma con pochi fronzoli. Un software molto meno completo di quello di Galaxy S8 dal punto di vista, se volete, delle attività accessorie. Però comunque un software maturo e molto reattivo. Bello, per me OnePlus 5 promosso.